Lo spunto arriva dal comune di Stazemma, dal sindaco Maurizio Verona, che ha promosso questa raccolta di film. Noi da anni vediamo che c'è il proliferare delle esposizioni di simboli che richiamano al fascismo e al nazismo e non possiamo questa volta restare indifferenti, per cui anche noi abbiamo deciso di aderire e promuovere approcci da questa raccolta di film che in pratica porta a inasprire quelle che sono le norme già presenti, quindi sia nel codice penale che nella legge Mancino e le firme si possono raccogliere presso la Casa Comunale dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12. Stiamo valutando, meglio, stiamo proponendo una targa ricordo a largo schiffer per ricordare cosa è accaduto il 10 giugno del 1940 e quindi permettere ai procidani di ricordare e portare avanti quello che è stato un po' un grave problema che è avvenuto sull'isola nel passato e raccontare con una piccola targa l'episodio che è accaduto ai fratelli Schiffer, in particolare la deportazione poi ad Auschwitz di Alessandro Schiffer che morì proprio ad Auschwitz. Proprio qualche giorno fa abbiamo, diciamo tra virgolette, un po' festeggiato quella che era il centenario della nascita del Partito Comunista con la scissione dal Partito Socialista. È chiaro che la storia della sinistra è una storia di scissioni, di grandi scissioni ma il tema dell'antifascismo è stato quello che è sempre stato un po' il collante, chiaramente non solo della sinistra ma anche di anime moderate di destra e anche al centro. È chiaro che anche questa nostra volontà di tenere vivo il ricordo anche sull'isola mi auguro possa essere motivo di unione anche con le forze di centrodestra perché l'isola ha bisogno di un po' di ricompattarsi di essere uniti attorno a dei valori e il valore dell'antifascismo deve essere motivo di unione e di concordia dalle parti.